Eccoci ancora qui carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute, il secondo medico che incontreremo in questo nostro nuovo percorso, in questa nuova stagione della trasmissione che affronta tantissimi problemi che tutti noi affrontiamo quotidianamente sarà il dottor Ignazio Borghesi. L'avevamo già incontrato un anno fa, si tratta di un neurochirurgo, un neurochirurgo preparatissimo, addirittura e fra i maggiori interpreti di questa modalità di affrontare le problematiche delle ernie quindi a livello nazionale, lui ce lo dirà di persona, poi lavora personalmente nella clinica di Cotignola, il dottor Ignazio Borghesi quindi ci farà capire meglio come poter rispondere, come poter agire quando effettivamente abbiamo un problema di ernie e soprattutto un problema di sciatica. La sciatica è un sintomo importantissimo di quello che avviene nella colonna vertebrale, Ignazio Borghesi ci chiarirà molti dubbi in riguardo. Dottor Ignazio Borghesi, noi ci siamo già visti però credo che sia utile una sua nuova presentazione perché così sappiamo meglio di cosa si occupa. Neurochirurgo ma cosa significa in realtà? Neurochirurgo, intanto mi presento, sono Ignazio Borghesi, sono responsabile della neurochirurgia del Maria Cecilia Ospita alla Cotignola, provincia di Ravenna. Neurochirurgo è quel chirurgo che tratta le patologie craniche della colonna vertebrale oltre che dei nervi periferici. Io sono specializzato fondamentalmente nella patologia cranica e nelle patologie vertebro-midollari. Infatti noi oggi ci occuperemo di una pratica che a noi pazienti, io mi definisco un paziente, mi metto davanti a lei, mi siedo davanti a lei e sento parlare di tecniche mini-invasive. Cosa significa esattamente? Perché già in questo modo io mi pongo meglio di fronte a un qualcosa che devo affrontare. Certo, certo. Le tecniche mini-invasive nascono in Francia nel 1987 da un chirurgo generale per la chirurgia laparoscopica della colecisti. Poi queste tecniche sono state applicate a diversi campi, tra cui la neurochirurgia. Mini-invasività significa un taglio molto piccolo e una preservazione delle strutture anatomiche, per cui per il paziente si riduce l'adegenza, il dolore molto poco e precocemente può ritornare anche all'attività lavorativa. Questo è dovuto grazie alle tecniche ingegneristiche che sono state messe in campo, come l'endoscopio, come la capacità di ingrandire quello che si vede con il microscopio e ultimamente anche con l'esoscopio, che è un apparecchio che con una telecamera periferica visualizza il campo di intervento e lo ingrandisce con degli strumenti che permettono una visione sul monitor molto più ampia addirittura del microscopio operatorio stesso. Quando si parla di A-LIF e X-LIF, cosa significa esattamente? Perché io ho sentito queste definizioni proprio nell'ambito di cui stiamo parlando oggi. Queste, l'A-LIF e l'OX-LIF sono due acronimi inglesi che stanno a significare una tecnica di approccio anteriore al racchide vertebrale, uno attraverso una piccola incisione sotto l'ombelico per arrivare alla colonna vertebrale, in genere allo spazio 5-1 e 4-5. La tecnica A-LIF si parte con un piccolo taglio laterale sul fianco e si raggiunge la colonna vertebrale per trattare le patologie dell'osso e le patologie discali. In particolare parliamo di racchide lombare anche? Sì, queste sono tutte tecniche che si applicano alla racchide lombare fondamentalmente. Esatto, e a un certo punto, ripeto, io vengo da lei, lei mi fa una visita, mi capisce la situazione e mi dice, senta, io penso che sia il caso di operare. Quando si verifica questa situazione? Allora, queste due tecniche vengono utilizzate soprattutto per pazienti che hanno un disco che è molto ammalato e che dà un mal di schiena o un dolore alla gamba, quindi la cosiddetta sciatica, che è refrattaria alle terapie fisioterapiche, all'infiltrazione peridurali, alla ginnastica posturale, quindi si arriva a un punto per cui non ci sono altri strumenti che la chirurgia e si applicano queste tecniche cosiddette proprio mini-invasive per facilitare la ripresa del malato. In che cosa consistono? Noi con questa piccola incisione arriviamo spostando le strutture addominali senza in nessun modo alterarle sullo spazio vertebrale anteriore e passando attraverso la biforcazione delle vene ilieche, delle arterie ilieche, incidiamo il disco, lo sostituiamo, togliamo eventualmente l'ernia che dovesse essere presente perché il disco malato può essere causa dell'erniazione del cosiddetto disco e si mette una protesi che porta a una fusione del segmento trattato, in circa un'ora e mezza è possibile fare questa operazione e la fusione permette la risoluzione del dolore e quindi la facile ripresa del malato, già la stessa il paziente può essere messo in piedi e due o tre giorni dopo può essere addirittura dimesso. Quindi è davvero un qualcosa di importante perché quando poi abbiamo sentito una parola nel suo discorso, una parola tra virgolette magica in senso negativo per il paziente sciatica, questa patologia, questo dolore, ma la sciatica si identifica sempre con un'ernia, con una possibile ernia oppure delle volte sì, delle volte no? Sì, la sciatica è un'irritazione del nervo che può essere dovuta a una discopatia, quindi un'instabilità del segmento, può essere dovuta a un'ernia che comprime il nervo stesso e a volte anche da uno scivolamento vertebrale che si chiama spondilolistesi oppure da un restringimento del canale. Ecco, in queste patologie noi possiamo trattare per via anteriore queste patologie, magari in una spondilolistesi, recuperando il segmento, riportandolo alla sua normale posizione e quindi risolvendo la sciatica. E quindi ovvio che tutte queste tecniche portano a dei vantaggi importanti, sempre dal punto di vista del paziente, oltre che del medico, perché appunto trattandosi di tecniche mini invasive, i danni, fra virgolette, dell'intervento sono ridotti al minimo. Sono ridotti al minimo soprattutto per le strutture neurologiche, perché noi con questa tecnica le strutture neurologiche non le tocchiamo. Noi rimuoviamo la causa che determina la compressione sul nervo, ma le strutture neurologiche non le tocchiamo e quindi riduciamo quasi a zero i rischi sulle strutture neurologiche. Ha utilizzato un'altra definizione fondamentale ogni volta che si approccia alla medicina, la causa. Il sintomo è sempre dovuto a una causa. Quando si va a rimuovere la causa è chiaro che siamo davvero molto molto avanti nella via della guarigione. Assolutamente. E questa guarigione è facilitata proprio dalla piccola incisione che facciamo. Facciamo un'incisione molto minimale dai 5-7 centimetri e questo facilita l'ingresso all'interno dell'addome per arrivare alla colonna vertebrale attraverso l'uso dell'endoscopio che ci permette di ingrandire le strutture che sono causa della compressione della sciatica permettendo di rimuoverla con una grande visione della struttura anatomica e facilitando quindi la ripresa così veloce del paziente. In generale i risultati sono buoni. Attraverso queste tecniche si riesce davvero a risolvere? Con queste tecniche qui si riesce veramente ad avere dei risultati superiori al 95% in termini di outcome clinico che significa che il paziente che entra con un dolore che magari può essere a volte anche classificato 8-10 in una scala da 0-10 può risolvere o vedere ridotto questo dolore fino a 2-3 in alcuni casi anche nessun dolore. Dottore per concludere qualche anno fa ci fu un bel film non so se lo ricorda con un attore americano Dennis Quaid che doveva entrare nell'organismo di una persona per andare a risolvere un problema. Si può dire che con queste tecniche noi rendiamo reale quel film? Andiamo a vedere davvero cosa succede dentro il nostro organismo? Sì, quella era un film di fantascienza che utilizzava quelle che sarebbero le nanotecnologie che speriamo che un domani vengano avanti per esempio per certe patologie e tumori cranici. Nella chirurgia vertebrale c'è ancora bisogno dell'occhio dell'uomo per farlo attraverso questi strumenti come l'endoscopio o l'isoscopio che ci aiutano sicuramente, ma sicuramente il taglio molto più piccolo che permette di arrivare con velocità anche sulle strutture che dobbiamo interessare senza determinare alcun danno delle strutture anatomiche perché utilizziamo dei passaggi che sono propri nel malato senza creare nessuna destrutturazione, questo ci porta sicuramente a questi risultati così brillanti. Un'ultimissima domanda, a proposito dell'età del paziente, lei pensa che potrebbe essere il caso di intervenire in qualunque tipo di età oppure più giovani, meno giovani, qual è per dire il momento nel quale effettivamente uno dice ok lo faccio? Beh, qui dipende sempre dalla sintomatologia e dalla patologia, cioè un'ernia del disco in un ragazzo giovane dove l'ernia è cosiddetta molle, cioè il contenuto di acqua di questo disco che è erniato è la maggiore componente, si aspetta che disidrati e quindi tendenzialmente una terapia conservativa è sufficiente per vedere il risultato clinico favorevole. In altri casi invece come gli anziani l'ernia è più dura e in quel caso lì anche dopo le terapie che vengono messe in pratica è necessario fare un'operazione ed è proprio sugli anziani che la mini-invasività si rende più utile perché dobbiamo rendere più autonomo possibile nel minor tempo possibile il paziente anziano, cioè il giorno dopo il paziente anziano deve essere già in piedi, lo dobbiamo già fare camminare e questo velocizza e riduce di molto le complicanze. Bene, grazie dottore, è davvero molto molto utile, crediamo che sia stato importantissimo per far capire che oggi come oggi la parola ernia non fa più paura come in passato. Grazie davvero dottore. Assolutamente, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.